buonasera a tutti sono la sirena preparando una cosa per stasera che non sappiamo come cucinare non si sape niente stasera facciamo un brodino pochi peperi arrostiti arrostiti vedete peperoni arrostiti ecco qua peperoni arrostiti ecco cuciniamo una coccina di pastina e due peperoni arrostiti ecco ecco non morse in due pure che non mi manca che io faccio che stiamo ma mangio sempre ormai a medicina macchista basta questa è la mia anduja la portata di mani la ricca bella ma non c'è sempre chistere questa non manca mai a casa mia mai se non c'è chistere ho biscotto non c'è niente ecco qua tu l'aveva mangiato io me la mangio non mi interessa ma la mangio volevo dire questo virus ancora ancora non c'è niente ancora siamo preoccupati perché c'è che odiavano il tuo menzo tutto io e odiavano e non capisci nulla no vedete capisce venire alluvione c'è pure alluvione ci mancava dopo ti senti la televisione che o zitta ammazzò a zitta su cose da fare perché che pare che sogno io che cosa fai tutto tutto che mostro io 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 e che si piglia il gioco di noi voi pregate sempre al signore che io amo il sangue io che avevamo il muso al mattino che si piglia il terra e facciamo assai preghiere vedete che scomparsi non facciamo assai preghiere perché questo è uno disgraziato fettoso uno porco porco animale mostro e faccio venire tutte queste cose perché il signore è debole che non lo prega noi e così non approfitto invece pregiamo tutto il signore pregiamo sempre figlio le pregiamo la mattina sera pregiamo sempre che mi fare speriamo un escemo di sto carcelo di sta galera che siamo chiusi dentro che la galera siamo che mi fare no vedete siamo tutti se sauriscono la gente pure che sono tutti i diavoli diavoli non sogno io che fanno ricordatevi che non sogno io che non c'è chi non c'è la mano di che mostro però signora ferma Gesù affermi tu affermi tu perché tu sei l'unico io ho detto adesso c'è il signore c'è la cucina e lo prego sempre pure quando mangio quando dormi guardi che bello guardi che bello Gesù confido in te l'ha visto e me la faccio sempre con io con Gesù con Gesù con Gesù con Gesù ma stasera faccio un bradicevo di esse dopo prego tutto il numero si intuia e ci dimmi bellezza e come ti mangi sempre con questo mangiare la mattina ma buono che a me non mangiamo niente non è che stiamo mangiando assai manco non mangiamo assai perché siamo sempre chiusi a un momento in questo mangiare ingrassiamo a tutta forza no vedete e poi pure con l'acqua si ingrassa non mi chiedete che può mangiare guardate i passere non mangia tutti mangiano stavo vedendo io con seduce a tutta forza che fanno tasti cellulari individui tutti i colori non mi chiedete mai e poi vengono questo virus fanno tutti dolce di pizze dolce o prima io che non metto di lato e niente sto pasca mu stacciamo pure chiusi